Omelia Novax e i fedeli se ne vanno. È successo durante la messa a Casorate I, comune della provincia di Pavia. Le parole di Don Tarcisio Colombo contro i vaccini hanno suscitato la reazione di diversi fedeli che si sono alzati e sono usciti dalla chiesa. Il caso è stato segnalato alla curia di Milano. Don Tarcisio si è difeso. Nella vita ha spiegato, bisogna sapere ascoltare anche chi ha un'opinione diversa.